il gobbo di rialto a venezia era il punto simbolico che segnava l'annuncio delle nuove leggi della città ma anche la fine della condanna a fustigazione per ladri e malfattori a rialto quindi c'è un gobbo o meglio un uomo curvo sotto una scaletta intento a sopportare un peso in mane sulle sue spalle non si tratta quindi di un vero gobbo ma della raffigurazione statuaria di un uomo esistito davvero secondo le leggende condannato a sostenere il peso di una scala e poi morto per la fatica questa statua che oggi potrebbe sembrare un mero ornamento in quello che in passato era il cuore economico della repubblica veneziana cioè campo san giacometto a rialto ha una storia a testimonianza dell'elite della serenissima ma anche del suo posto scopriamo dunque tutti i segreti di questa statua che si porta dietro un pezzo della storia della città dei suoi abitanti e anche dei suoi malfattori innanzitutto il gobbo di rialto segnava il luogo dove il messo annunciava le nuove leggi ma anche le condanne a morte costruito nel 1541 da pietro di sarlo il gobbo di rialto venne posto in un punto strategico della città nel luogo di incontro di mercanti e uomini di affari nonché area adibita all'annuncio pubblico delle decisioni più importanti dello stato veneziano incluse anche le condanne a morte proprio alla sommità della scaletta che sovrasta il cosiddetto gobbo infatti venivano annunciate da parte del messo di turno le nuove leggi le nuove condanne e le nuove decisioni da parte dell'alta rappresentanza della repubblica di venezia ma oltre ad essere un luogo di divulgazione questa statua divenne anche simbolo di qualcos'altro il popolo infatti decise di farla diventare una vera e propria statua parlante proprio come quella del pasquino di roma cioè il punto esatto in cui lasciare bigliettini con frasi ingiuriose o beffe anonime sui potenti di turno per esprimere tutto il malumore del popolo nei confronti delle decisioni prese dalle autorità cittadine non è finita qui però perché il gobbo rappresentava anche un punto molto importante per tutti i condannati alla fustigazione scopriamo perché il bacio al gobbo era anche la fine della fustigazione per i malfattori quindi perché il gobbo di rialto per tutti i ladri o malfattori che venivano condannati alla pena della fustigazione cioè la punizione corporale effettuata con l'uso delle verghe rappresentava un punto molto importante per la loro condanna cioè la fine il supplizio iniziava tra le colonne di marco e todaro in piazzetta san marco e terminava proprio ai piedi di questa statua tra la folla che infieriva non prima però di aver dato un bacio al gobbo infatti la pena terminava proprio con un bacio alla statua del gobbo gesto che nel 1545 fu sostituito dal bacio alla cosiddetta croce dei frustai una croce metallica posizionata su un pilastro sempre in campo san giacometto che assunse il ruolo di punto finale della pena della fustigazione sostituendosi così al gobbo simbolo forse troppo profano per l'epoca per l'epoca